La scuola del futuro sarà quella in cui anche l'ambiente contribuirà al progetto educativo, secondo il metodo Malaguzzi che ha ispirato il progetto del nuovo polo scolastico dell'infanzia di San Giovanni Tiatino, dove questa mattina si è svolta la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo edificio che in via Ciaffarda ospiterà nove nuove sezioni che accoglieranno i piccoli studenti che verranno, come annunciato da Giorgio Di Clemente, sindaco di San Giovanni Tiatino. È un qualcosa che veramente la cittadinanza aspettava, andiamo a completare con quest'opera ciò che ieri era già presente qui alle nostre spalle, con un primo lotto. Oggi il tutto viene incorporato con quest'altro nuovo edificio. Questo andrà a regruppare tutti quelli che sono i piccoli, i nostri grandi cittadini, cioè 0-6 anni. È un progetto innovativo, un progetto che è già stato presentato ed è già in essere in Emilia Romagna, in altre parti del centro nord. Noi lo abbiamo portato e sposato qui come progetto futuristico. Costi e tempi di questo progetto? L'importo del contratto è di 3.363.593, poi più giustamente tutti i vari oneri. Come tempi abbiamo di tempi massimo 2026, ma io mi auguro di poterlo finire prima. Il progetto da oltre 3 milioni di euro finanziato con fondi PNRR farà fronte alla domanda sempre crescente di nuove iscrizioni scolastiche nel comune che fa da cerniera tra Chieti e Pescara. Paolo Cacciagrano, assessore alla pubblica istruzione del comune di San Giovanni Tiatino spiega che l'attività scolastica cambierà in modo radicalmente perché questo è vero, noi stiamo oggi mettendo la prima pietra per quanto riguarda un nuovo edificio bellissimo. In realtà stiamo svoltando rispetto alle attività didattiche del nostro territorio. Noi stiamo aprendo al futuro perché questo progetto è stato realizzato secondo le nuove metodologie didattiche di Loris Malaguzzi. Loris Malaguzzi è quel signore che nel 1980 a Reggio Emilia ha ritenuto, ha iniziato un nuovo metodo didattico per quanto riguarda i bambini e quindi per quanto riguarda la scuola dell'infanzia dove il bambino è protagonista di se stesso. Quindi stiamo aprendo i bambini, i ragazzi del nostro territorio al futuro secondo questo metodo didattico che non solo è conosciuto in Italia ma è conosciuto in tutto il mondo. E' vero che a Reggio Emilia, perché parte lì, si chiama Reggio Cildred, a Reggio Emilia vanno delegazioni di tutto il mondo per cercare di apprendere questa metodologia didattica.